Iniziamo a farci un'idea del concetto di probabilità e facciamolo considerando alcune situazioni. La prima situazione è martedì mattina. Carlo e Giacomo decidono di tirare testa e croce per decidere chi deve essere interrogato di italiano. Carlo lancia la moneta e la moneta cade di taglio. Carlo allora lancia di nuovo la moneta. Qual è la probabilità che la moneta cada per due volte consecutive di taglio? La seconda situazione è mercoledì sera e vado al cinema. Mi siedo accanto ad un ragazzo e scopro che lui è nato nel mio stesso giorno dell'anno, il 27 marzo. Qual è la probabilità di incontrare una persona a caso e scoprire che è nata nel mio stesso giorno dell'anno? La terza situazione è venerdì e vado al bancomat a prelevare insieme a mio figlio di due anni. Ho mio figlio in braccio, inserisco la carta del bancomat e proprio in quel momento chiama mio marito. Rispondo e quando riaggancio scopro che il mio figlio ha digitato cinque numeri. Qual è la probabilità di azzeccare un PIN digitato a caso? L'ultima situazione. È sabato pomeriggio, vado al megastore e alla casa incontro Gianni, un amico che non vedevo da qualche tempo. Paghiamo, usciamo e scopriamo di aver parcheggiato le nostre due auto una accanto all'altra. Qual è la probabilità di parcheggiare la mia auto accanto a quella di Gianni in un parcheggio da 5.000 posti? Ora, confrontiamo le probabilità di questi eventi. Quale sarà il più probabile? Quale è il meno probabile? Scopriamolo provando svolgere l'esercizio che adesso vi proponiamo.